Al Mici, il cross in mezzo con i pugni, esce male Ambrosi, attenzione alla colpa, il gol, il gol del Lanciano con Falcone, 2 a 2, uscita maledetta di Ambrosi che non trova il pallone, Falcone invece trova uno straordinario pallonetto e 2 a 2, primo gol in stagione per Falcone che era accreditato per giocare da titolare in questa partita, visto che Gautieri aveva detto che ci sarebbero state delle novità in avanti, Falcone ha fatto vedere di avere dei numeri, qui l'uscita da dimenticare per Stefano Ambrosi, Falcone si sistema il pallone e lo mette nel 7 peraltro un colpo assolutamente non difficile, non facile, pallone infilato nell'unico spazio dove poteva segnare, preggevole fattura per Falcone un gol bello e importante allo scadere, la Ternana viene riacciuffata da un bellissimo gol di Falcone Ristabilita dunque la parità, uscita a vuoto di Ambrosi facilita sicuramente il compito per Falcone che comunque in mezzo a 4-5 giocatori della Ternana riesce a trovare lo spazio giusto per il gol, per il tiro che vale un punto Grazie 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 Grazie